Nel vuoi il pollo? No. Perché? Perché? Perché non vuoi il pollo? Perché non vuoi il pollo? Ah che sega ragazzi! Che bucce! Perché non vuoi il pollo? Perché non vuoi il pollo? Ma non è giusto! Ma non vuoi il pollo? Perché non vuoi il pollo? Se ne piace. No, ne piace. Con chi ce l'è? Eh? Con chi ce l'è? E con il gatto. Perché? E viene la struppa senza le gambe, la lascia a fare il coglione. Ma perché sei così cattivo oggi? Sanneggia il bamboccio! Oh! Oh no! Eh! Oh nooo! 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 Non me ne posa! Dica sto figlio! No, le minacce no eh! Eh no, no, via! No, 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 le minacce no dai! Vito, ma tutto sto burro? Oh, e la mangia per cazzo? Basta! Basta! Lascialo via! Lascialo via! Guarda il burro che c'è! Si! Mettene! Ma! Ma che è? Ma che è? Oh! Oh no! Eh no! Non ha levato niente! No! No! Sono stupido! E sono stupido io! E ora sei scemo! No! Non sono scemo! Non ha levato il burro! Non ha levato niente io! Ma mettici un altro pezzo dai! Scrivile! Anche nevicato! Sega! Oh! Adesso anche Peppe ci mette! Anche il pepe! Vai! Tutto! Proprio oggi completo! Eh? Oh! Oh! Managgia un sacco di... De che?